Non serve ripetere come dal 2014 Lanci ripete che nel tema dei rifiuti siamo in uno stato di calamità istituzionale. Mancano gli impianti pubblici, manca una programmazione definita degli impianti pubblici in Sicilia. Tutto questo sta provocando uno stress nei confronti delle discariche esistenti e uno stress particolare nei confronti dell'unica struttura pubblica che opera in Sicilia che ha dovuto accettare i rifiuti di tanti comuni al di là di quelli che sono i fabbisogni della città. Di fronte a questo stress occorre certamente evitare la doppia emergenza, l'emergenza di Bellolampo e l'emergenza nelle città. Occorre sicuramente dotare ogni provvedimento in spirito di collaborazione istituzionale con la Regione che invitiamo a provare sollecitamente la settima pasca, ma al tempo stesso chiediamo che in spirito di collaborazione si trovi un rimedio anche portando i rifiuti fuori dalla Regione.